Pronto? Amo! Amo, oggi è lunedì, stasera scongeliamo gli ormoni! Uuuu, amo, e mo' comprati i bastoncini! Nooo, scongeliamo gli istinti esaltando i piaceri della carne! Amo, ma quelli bastoncini sono di pesce! Nooo, oggi è lunedì, è il giorno del nostro giochetto erotico, il gioco dei ruoli! Ma hai fatto il lunedì, me l'hai dimenticata, amo! Allora, questa volta saremo altre persone! Tu sarai un poliziotto dell'ufficio immigrazione! E io una povera immigrata del Paraguay, nascosta in una cantina! Ma perché teniamo la cantina? Ma perché sono do Paraguay! Ma io non ho capito bene sui giochi! Allora, facciamo così, ti ho messo nella macchina la borsa con tutto l'occorrente! Ti aspetta a casa, va bene? Su, mi arrivi, ma credi... Sì, sto arrivando, sto arrivando! Ciao, ciao, ciao! Ti prendo nella patta? Io sono una povera immigrata del Paraguay, sono documenti, sono le permesso dei giorni... Puoi dire che ha servito polizioti dell'ufficio immigrazione, che mesgamas e mi fa lo malo! E speriamo! Chi è? Amoso, io apri! Non capito niente, come se... E se mi si può fare il civitare, se mi può fare il civitare! Che è esso tu? Ah, è il fatto del gioco di nuovo, la momento di me ti cata... Ah, signora, apri la posta, io sono dell'ufficio... Qua l'ufficiero, non mi ricordo... Io ero dell'ufficio postale! E' arrivato patto! No, mi è stato il poliziotto dell'ufficio immigrazione! Eh, eh, signora, sì, sì! Allora facciamo così, io faccio finta di dormire, tu entri e mi aggredisci, capito? Va bene! Ah, adesso faccio un pisellino! Un pisolino? Oh, scusa, ma sarà stata senza speranza! Grazie, la porta è aperta! Amore, dove stai? Che ti hai visto? Non ti vedo! Che ti sei meglio? Che ti sei meglio? Amore, pensi che ho sbagliato il borsa? Penso che ho preso la borsa nella piscina! Ma lo frate c'è me, Federica Pellegrini! Che devi? Signora! Ah, che dici, mia madre! Ah, signora, signora, chi è lei? Giuseppe Maria Fernanda Piletta, un'esita, siglietta, bonita, dolores, Aitana Blanca! Amore, ma mi devi ricordare, che si no! Ma non ti posso chiamare solo Aitana! Ma come hai visto il pezzetto? Chiamami Blanca! Ah, signora! Ah, che dici, ma che dici? Sì, sì, sono fudelta, sono fudelta! Guardi come sono fudelta! Signora, allora aspettiamo perché a questo punto tu mi dovresti dare una cosa, non mi ricordo che mi dovresti dare. Io te la volevo dare una cosa, ma tu già mi fatti verso il genio! Io mi faccio la cosa, ma quella cosa da me e la butto e la cosso! Signora, signora, quale domande le faccio io? Che vuole tu? Da dove viene? Da Paraguay! E perché è qui? Da Paraguay! Sì, mettete fuori i documenti! Eh, i documenti, signora, mi dico i documenti! Forza, accosti la macchina, scendo e favorisco i patente e libretti, ah! No, questi documenti qua, no! Permesso di soggiorno! Permesso di soggiorno! Prego, accomodatemi, faccio un pavolo di caffè! Ah, non ho i documenti qua, no! Io sono pego i documenti per bere, sono desangiorno! Ah, non avete documenti, è capitato male, che sono fudente! Ah, brava, 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 vai, che disfaccia! Sono troppo fudente! Ah, va, 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 va! Sfogliati! Ah, mo, già, e aspetta! E guardiamoci, lo amo, vinci! Su fatto del lunedì, amo! Io sono pego i documenti, tu non le vuoi! Ah, e allora, signora, venga con me! No, no, non ho fatto pego col mio corpo! No, no, signora! No, non ho fatto pego col mio corpo! Signora, venga con me! No, non ho fatto pego col mio corpo! No, non ho fatto pego col mio corpo! Signora, ho capito! Voi avete cambiato l'arrivo e mi diceva Paro, vuoi me non andate di corpo! Ma io che ci posso fare? Io non ho fatto di pego, cioè, no, non ho fatto di pego, Pago col mio corpo, capito? Il corpo, questo corpo, perché mi faccio tutto questo buntello e non arrivo, perché tu vuoi questo corpo, però tu non ce la fai, bro! Voi, vieni a civiltà! Ah, signor Gaetano, non vi vorrei fare impressionare, mi avete cambiato a 100. Più che del Paraguay, pare candela! Vieni qua, ma lo dico! Hai già mai sentito tutto un calore? Ho già mai sentito tutto un fuoco? Ho già mai sentito tutto un fuoco? Ho già mai sentito tutto come desiettas? Eh, eh, pure io mi sentito tutta! Pure io mi sentito tutta! Pure io mi sentito tutta! Ah ma come vengono buone la merda? Eh, amo perché fa falline. Ma perché te la ricordi ancora? Secondo me questa cosa è una fumata di colazione, amo. Sono fatte del lunedì. Signora, avete nato anche i pirini!